Mi chiamo Pietro Borghini, sono presidente della cooperativa La Formica, una cooperativa nata nel 1996 sulla realtà di Rimini, quindi che ha 24 anni e che svolge nella città di Rimini principalmente servizi di pubblico utilità. Siamo un'azienda che lavora 365 giorni all'anno, quindi non abbiamo periodi di chiusura. Svolgiamo principalmente servizi di igiene ambientale, servizi cimiteriali, servizi sulle strade, tutti servizi di pubblico utilità o per i comuni o per enti, tipo le municipalizzate. Quindi abbiamo questa organizzazione che risponde quotidianamente a questi servizi. Quindi in realtà non abbiamo avuto una sospensione netta delle attività, per dire non eravamo fra le aziende che dovevano chiedere autorizzazione alla prefettura per operare, noi eravamo autorizzati perché appunto facevamo servizi di pubblica utilità, principalmente servizi di igiene ambientale e servizi cimiteriali. Visto che facendo questi servizi di raccolta è stata una importante riduzione, perché chiudendo le attività abbiamo dovuto sospendere o ridurre dei giri, quindi abbiamo dovuto attivare anche la cassa integrazione. E quindi una parte dell'azienda lavorava e una parte dell'azienda era in cassa integrazione. L'altra scelta che abbiamo fatto per ridurre l'ipotesi anche di contagio è di fare lo smart working con tutto l'ufficio, visto che adesso grazie alla tecnologia abbiamo attivato 10 postazioni da remoto. In ufficio fino a metà aprile sono venuto solo io, che venivo più che altro anche per sovraintendere il lavoro dei coordinatori, che sono sempre venuti. Sono le misure di sicurezza. È chiaro che abbiamo avuto un inizio un po' di fatica a trovare le mascherine, che abbiamo dovuto acquisire anche sul libero mercato a prezzi importanti. Questo un po' ci ha faticato, però le scelte sono state principalmente tre. Fornire la mascherina a tutti gli operatori, una quotidianamente. Dare un igienizzante per le mani e per le superfici, per dire igienizzare i camion, che è lo strumento di lavoro principale. E lì la cooperativa ha anche provveduto a fare due volte a settimana un'igienizzazione di sistema. E poi abbiamo chiuso gli spogliatoi in maniera precauzionale, quando c'era il picco, e limitato gli accessi anche nel cambio turno. Segnalo anche che quelli che stavano in cassa integrazione, in realtà, a differenza di altre realtà imprenditoriali, chiamavano perché volevano rientrare al lavoro. Noi, sendo cooperative, sendo cooperativa sociale, c'è anche una forte adesione al progetto. La modifica più importante e radicale, che poi abbiamo proseguito per un po', è stata quella della smart working. Perché l'ufficio, in realtà, a differenza dell'operatività, è rientrato poi scaglionato. Anche perché sull'ufficio, avendo anche delle persone fragili, le persone fragili, sul tema virus, se prendono il virus, c'è una possibilità importante che la malattia, insomma, degeneri in qualcosa di importante. Questo vale sia per alcuni operatori, oppure per alcune ragazze dell'ufficio che hanno appunto patologie mediche. Direi che quello che ci ha colto un po' più di sorpresa è stata l'organizzazione dell'ufficio. Perché comunque spostare completamente l'ufficio in altri ambienti, diciamo, in tante case diverse, non era così immaginabile per noi. Cioè è stata una piacevole scoperta che questa innovazione è comunque stata in grado di sopperire ai bisogni dell'azienda. Sul piano invece di organizzazione dei servizi, devo dire che ci sono stati particolari né tensioni o né modifiche organizzative. Però è anche chiaro che in quel periodo, essendoci meno anche traffico veicolare, si faceva anche prima a fare i servizi. Perché comunque noi lavoriamo dentro la città, in orari, quando la città è in piena attività e quindi il traffico veicolare è importante, è chiaro che quello può ritardare l'esecuzione del servizio. Essendoci molta meno gente in giro, è chiaro che questo ha facilitato l'esecuzione dei servizi. Noi siamo fortunati perché, come dicevo prima, essendo cooperativa, i soci si sentono molto coinvolti nella gestione e anche i dipendenti, c'è stato un aspetto molto bello di corresponsabilità di tutti. Nessuno si è ammalato, quindi vuol dire che le persone che hanno lavorato qui sono state molto attenti anche fuori di qui e c'è stata proprio quella voglia di continuare a lavorare. Non abbiamo avuto un assenteismo dovuto al virus e questo per noi è un aspetto bello. Avevamo un obbligo anche verso la città e questo direi che tutti l'hanno percepito. Facciamo anche altri servizi dentro i cimiteri, ma principalmente eseguiamo i funerali. Abbiamo mantenuto il servizio, è stato anche un po' incrementato perché comunque ci sono stati un po' più di morti. È chiaro che c'è stato un picco. L'altro aspetto che per esempio ci ha messo un po' in difficoltà è che, come dicevo prima, all'inizio non avevamo tutti i DPI o meglio, avevamo molte mascherine chirurgiche che trovavamo e non quelle FP2 o FP3 con quelle più sicure e alcuni nostri operatori, perché anche lì abbiamo un servizio di reperibilità che andiamo soprattutto di notte per aiutare la nostra committente se ci sono dei morti in casa. Alcuni operatori mi hanno segnalato anche un certo timore personale di dire non che si sono sottratte a fare quel servizio. Abbiamo anche eseguito dei servizi dove potevamo essere a rischio contagio perché siamo andati a prendere, voglio dire, morti che anche se in casa potrebbero essere stati morti del Covid. Per il resto devo dire che il servizio comunque anche se ha avuto questo picco è sempre stato gestito bene anche perché abbiamo per fortuna una serie di operatori che ci sono specializzati e che quindi hanno comunque risposto egregiamente anche alle richieste maggiori. Però è chiaro che questo dato ci ha fatto capire o forse come dicevi tu toccare con mano che il virus era una cosa seria che aveva colpito chiaramente perché in effetti anche nei comuni di Mitrofi dove c'è un numero di abitanti minore abbiamo visto un incremento importante di deceduti e quindi di funerali.